Ed eccoci alle previsioni del tempo per sabato 25 aprile su tutte le regioni condizioni generali di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso con qualche boschia al nord. Il proseguimento della giornata sarà tutto solleggiato ed anche per la tendenza domenicale prevede un cielo generalmente sereno ma con qualche nuvole. Le temperature si rialzeranno un po' tra 11 e 20 gradi con venti di direzione variabili moderati e mari mosso o poco mosso l'Adriatico e lo Ionio. È tutto per questa edizione di Diario Sera, le notizie che troverete come sempre sui nostri canali social, facebook, youtube e twitter. Prossimo appuntamento con la nostra informazione domani mattina alle 9 con weekend sabato e poi alle 18 con la seconda puntata del talk show. Io resto a casa. Buon fine settimana.